Ha segnato il gol della bandiera di una sconfitta pesantissima che ancora brucia, Visani è stato tra i pochi a giocare sopra la sufficienza e ora è con la testa al prossimo impegno. Domenica Alditella sarà di scena la San Benedettese e per fare risultato occorre migliorare in tutti i reparti. Quando si perde, si perde tutti insieme, non è il portiere, il difensore, l'attaccante, è da migliorare tutto e venti, quindi in primis da me ha finito dal più piccolo. Insomma c'è da lavorare sodo e come esortato da Mr. Bifini bisogna tirare fuori il carattere e giocare con maggiore determinazione. La squadra è consapevole che il prossimo avversario è forte ma è presì convinta di poter fare il risultato per scongiurare il terzo K.O. consecutivo. Noi dobbiamo continuare a lavorare, il risultato ormai è archiviato, 5 palloni, 5 gol che abbiamo subito però sono sempre 3 punti persi. Stiamo alla quarta di campionato e c'è da lavorare. L'unica strada che conosco è il lavoro, quindi rimportiamoci le maniche e andiamo a lavorare sui errori commessi.